Con un comunicato stampa, la Sandra Bate ha comunicato l'interruzione del rapporto di collaborazione con il tecnico Marcello Batista. L'allenatore della formazione Irpina ha dovuto rassegnare le dimissioni per via di un intervento che dovrà affrontare in Brasile, che gli ha impedito la conferma per la prossima stagione sportiva. Dopo l'ottima annata, ottenuta nel primo anno nel massimo campionato di calcio a 5, il club gli aveva dato fiducia organizzando una rosa competitiva per il campionato 2020-21. Il tecnico ha voluto ringraziare la società e il pubblico irpino tramite un video realizzato nella propria abitazione. Ciao a tutti, vorrei informarmi che per troppo devo restare in Brasile per fare un piccolo intervento quirurgico dito con due tremezi di riposo. Mi dispiace di non stare lì e se mi avoi, ma continuo da lontana ti fare per questa squadra che mi ha dato tanta soddisfazione. Ringrazio Massimo Abate e famiglia, il presidente Massimiliano, la dirigenza, Fabiana Di Nardo, lo amigo Vinicius Comella, lo staff e il giocatore. Forza sempre, Sandra Bate!